Ciao a tutti ragazzi, sono Ledger di Game2night e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo con... Non devi dire che siamo con, tu devi dire che devo sbustare le roba del genere Tu ti sbusti le roba del genere Oggi sbustiamo due... Sbusto Sbusto Oggi sbusto due box di... Come si chiama? C'è il duellante L'espansione nuova, quella dove c'è nel Dragma E ragazzi, vedrete, prossima settimana Il prossimo... Culo Vedrete, soprattutto io che ho comprato tutta sta roba Sì, sono quattro box in totale divisi in due box in un video Speriamo di trovare la Starlight O se ne hai da più calzare in Starlight Ci possiamo... Che dici, non c'ho la sigla? Quindi, iniziamo col primissimo box Non sono un po' poche Fidati Tanto lo sbustare un cazzo Ricordiamoci i valori, signor Capuano Allora, che cosa ti interessa? Dragma? Non mi interessa niente Solo si portate per tanti È 50 euro Grossa Ragazzi Ragazzi, vuoi scegliere il lato destro o il lato sinistro? Signor Luca Mi prendo questo Ah, vedi? Viva la destra Quindi, come avevo detto nell'intro Due box in questo video e due box in un altro video Facciamo sempre a gara Inizio io perché Comando io E cazzo non mi comando io Va benissimo Non devo occupare Che fai? Metti l'ultima in fondo? No Melfi Pappi Melfi e Infernoble Night Dobbiamo metterli da parte Melfi e Infernoble Night Che cazzo è? Sava niente? No Sava niente Sava in cazzo artista amico E' un'altra carta Infernoble Ah, ok, Infernoble Noi dividiamo come sempre Gli archetti Scusate Melfi Madonna che schifo Nascondino Melfi C'è l'hai Melfi Fai una pila Con le cartone C'è l'hai Melfi Drogma Questa è la parte Ok Dali tagliate No, questa è la carta di merda Megalito non so se Sono un tre per Sono una carta Solo i tre per Mi serve Rabi Vabbè Niente Drogma Ah, quelle forte Quelle fortissime Time Reviver Emicter Cambia la posizione Di un mostro No, no, no Questa va messa da parte Ma è stata buona Questa è poco buona Buona intratta Leggi cosa fai Non tanto che sbosto È una foto a tunnel Effetto Se questa carta Nella mano Cimitano Può uscire Come un personale Un mostro scoperto Su ogni terreno Metti li coperti In posizione di difesa E se lo fai Evoca specialmente Questa carta Una sigla sprecata Drago rivoluzione Bello È forte però Non fa niente Costa niente Immagino Costa quindi c'è Ah Per il momento Ah, sì Poi capace che cava Melfi Che palle Una Un'altra Una sigla Va bene Qui c'è un'altra Super Perché non ho sentito niente Allora Questo è un Attore Della visita Non ho sentito niente Da volta Sono all'oscuro No È dark lord Ah, non so se vuoi Farlo È dark lord Già la pelliccia Sparente Sarebbe la nuova coda Circo Drago celeste Lampara Vabbè Quello Do di tenere Quello è buono Qua Melfi Qua Dragma E Rino Sciabola Spacca Carri Incarica Va bene La super Del cazzo Uno per Lo tengo La secret La secret Qua Antico Eri Questa La tengo Quale è la sua La prima Domenico Questa Per Il Melfi DDH Senti DD li teniamo Un 3x Un 3x Anzi No Un 6x Di queste Carte DD Allora Sono Lì Che Sono Cosante Scarica Spirale Torno Di Clifante Niente Spirale Resuscitata Questa La Ballena Fluffal Comune Poi Signore Scravizia Si Sono Tutti Comuni Tutti Comuni Sono Alla Chiamare Il Drago E Gaia Il Magico Cavaliere Non la faccio La base Gaia Che cazzo Se la Daniele Daniele Si prende tutte Le carte Gaia Ma fa La base Gaia Se vuoi Si Vabbè No Sì Spiriamolo Dragma Titano Un 3x Me lo tengo Niente Niente Oddio Che è Adin Ma se è forte Perché nessuno Lo gioca Quella carta Che si ha Da Tributo Torrenziale Cacca Cappella Link Campanel Link È Un Link Di Merda Fa Veramente Cagare Artista Amico Nuovo Fusione Spirale Incontro Dragomatica Nazione Dragomatica Potan Rosso Infermobile Cavaliere Maggio Delfino Delfino Lampada Dracoccione Che palla Un tramutato Tanto vale Un euro Si Costa un cazzo Quella starlight Costa Non la metto manco Nelle bustine Protettive Una starlight Nelphi Nelphi Gagliar Galotto Una ultra Prisione del drago di ghiaccio Questa è buona Questa è buona Questa è la volevo giocare io Penso un po' Ah vabbè sai quanto ne troverai È fuffa quella ultra Spero di no Però Io questa la tengo Da slivo pure Dadi tagliati a cubetti Ah è la riparazione di Precious Spawn T'è la prima Questa a tenere Fuori a Rokishi Ma non la avevi già fuori quella Eh si E ne voglio un'altra Melfi Vabbè Gaia Niente Niente Signor Oscuro Ancora Buffera Fa cacare Sì Quella persona Magia scoperta Ah vabbè Annullare Strider Annullare effetti Di una magia scoperta E' la te la fa pure tornare in mano Se Cosa annulli la continua No Continuolo Ancora Ancora Le magie scoperta Normali No non riesco Eh cosa c'era Ah era Era Melfi Infernoble No Drogmatica Cacata Infernoble Drogmatica Antichi guerrieri Qua dentro Dd Da mettere qua Minchia di Dd Sì Infatti Dalli tagliati a cubetti Pusizione Drogmatica Già l'appendita Spavento Artista amico Va bene Cacata Lampada Infernoble Cavaliere Megalito Full Clisette Fatto E Olivier Che è super Perfino Un'altra cosa Raduno di vendetta Cazzo è Melfi C'era i Melfi C'era i Melfi Ma quindi Adesso i full Si possono mettere Nella generica Si si Non si vedevano Le carte Conno di Clifante Continua a non vedersi L'Infernoble Vabbè Metti lì là Al posto dei full Chi se ne fa Attore dell'abisso Campanelli Che brutto proprio Questo santo Come fa a piacerti Piace tantissimo Malu di tuono Questa non so se hai qualcuno Che ti comprerà Sui supporti hand Melfi mamma Mammina Mammina Melfi Sai che è un Gaia Starlight Ma seriamente Si la fusione Starlight Adesso che hai parlato Questa fusione C'è la fusione Starlight Non ci scommette E' la Starlight peggiore No Banchetto Yaminabe Che cazzo è Questa carta qua Tu che le sai tutto Banchetto Yaminabe E' la cacata Per Si insomma E' questa cacata Dove stanno Di mezzo all'attacco C'è guadagnata Tutta la delle carte Che buffa Sai che anti Kuguri C'è la magia Di più guerriere Quindi Circo del Dago Celeste Furia di Lucky Shin Non so se vuole Si Tre per Spirale resuscitata Matt Mac diametro Questo te lo prende Simone Gigante Roland Nexus Le cazzo è il resto Ah no Ok Questo è Roland Ho fatto un Nexus Lui E' di di cane Qua Dio che schifo Il cane di alto E' brutto proprio Wow Oh che occorre Un altro di questo Un altro Tita Qua Melfi Mammina Campanile link Si questo è tre perre Fusione Anche le gianne Questi qua Dobbiamo mettere a parte Tre perre Questo abrillo Di di male Non so se Si è già Di va Stamore super pesante Dove mettere da parte Sono rottame Vabbè Signor Oscuro Dark Lord Signor Oscuro Dogma McRaven Rivendificatore Delfino Ecclesia Ecclesia Una ultra buona Una ultra buona Quanto stai Ecclesia Ecclesia Sta sui 15 euro A quel momento Una ultra buona Finché sono Fornitori Un euro E crollerà di prezzo Perché non si userà Quel cosa Ma vaffanculo C'è una super qua dietro Va bene Allora Casa dei giochi Ma quanto è brutto Quest'archetica Che bellissimo Un'azione dogmatica D.D.Arca Gerard Ah in particolare Non l'abbiamo messo Mamina Un po' dal rosso La fusione Di Fluffal Ah Quella che è Starlight Però è super qua Dobbiamo fare il ricoso Senti Siamo a posto Con i trapani Siamo a posto Con le campanelline Siamo a posto Con le furie Vabbè I tre perre Adesso si può mettere Tutto nella cuffa E tre perreste Manca questo qua Davvero Ma comunque Ce l'ho io Una cassa Una secret Nella In questo box E non ce l'ho io Però questo qua Ce l'hai melli D.D.Arca D.D.Arca Abbiamo finiti Sì Fluffal Poi a telecamere Spette controlleremo Cosa abbiamo finito E cosa no Di sicuro Circo Lo drago celeste Scarica spirale Di male Non so se Di finito Ecco Questa qua Ok Io ho finito Le comuniche Melfi Fennec Il trapano L'hai finito? Sì Ok Infernoobile Dogmatica Teo Che cos'è? Artista amico Occhi diversi Artiglio Metale Che artista amico Che schifo Quindi la secret Sta nella mia Nella mia o nella tua Nella mia o nella tua Oh Dio E non è nella mia E non è nella mia E non è nella mia Scuro E nella mia Campanellink La jara I Melfi Allora Brilla Quindi secret Non è box fallato Ci sono due secret Oddio Ma due ultra Non sbaglio Due ultra Tre ultra No Due ultra Tre Ah ok Allora Artista amico Casa dei giochi Melfi Samuele sorpresante Fusione spirale Diametro Dove sta? Buono qua Signor da scuola viziata Infernoobile Cavaliere Dittor me Che li sto facendo il trappè Uh Floriteri È una delle secret Che costa di più Dopo Dei dragma Parliamo di Trenta euro Di valore Trenta euro È la carta Ho visto che La vendevola molto meno È la carta più fatta Nel mazzo Vabbè Secondo box ragazzi A voi Sare tu Mentre io Sto sistemando L'informato Io lo apro Beh oddio È andata bene È andata abbastanza Se non fosse questa Cacchata qua Come sta messa La base dragma Un ecclese Un floriteri È praticamente Qua se tre peri I telecomuni Mancano le super Io prendi lato destro Tu prendi lato destro Ok Quindi io continuo Con il sinistro Vai Inizito Ok Vediamo Melfi Mammina Dio santo Dogmatica Teo Via Caracuri Delfino Fuffal Ad Illuminato Aumenta La base E cacate Allora Qui c'è Siamo No Se voi Non si vede più Di solo Di dieci E se sta Tre peri Venti O cazzeggio C'è Metticato Allora Di dieci Arca C'è Per Di Di Mare C'è Per Ritrato Ma Veramente C'è Il Ritrato Che stanno stampando Motori Se ti Stai Per Il Perdi Di Male E Quattro Perdi Di Cinque Perdi D.D.H. Ok Questo Mi serve Questo Vai Continua Vuoi controllare I fluffal Cosa Sì Tu che fai Uno Due Tre Quattro Non C'è Nulla Allora Questa È Corno Di Climare Sempre La Solita Nascondino Melfi Poi Controlliamo Melfi Poi Melfi Dogmatica Nexus E Raduno Di Vendetta Una Carta Per Scegli come Bersaglio Scoperto Contatto Tutto Il Bersaglio Adesso Guarda Nel 500 Cattoli Inchia Fortissimo Se Viene Ambrata Al Cimitero Perché Nostra Che Paggita Lasciato Il Terreno Pesca Una Carta Vedete Stanno In Nel Buono Buono Adesso Puoi Vedere Intanto Del Fino Fuffa Prego Luca Sto Facendo Io Ci Atteniamo Il Luo Fatto Di Di Altri Che Sono Sono Le Spavento Non So Se Voglio Fare Una Base Siamo Nel Oscuro Melfi Fenni Degna Matica La Ultralivelle Se La Prende Sicura 100% Adriano E Invece Trova Un Auto Forderie Dritto Per Due Per Forderie Continua Così La Basta Bella Porta Me La Faccio Direttamente Scusami Ti Fa Il Mazzo No Forderia Cap Le Si Che Sono Andate Via Già La Pelliciaspamento Circolo Spirale Scarica Spirale Vettelino Truffal Mammina La Balena Crudele Raduno Di Mettarino Niente Puffante Io Trovo Mettiamo Un Tre Per Di Mano Di Con Giusto Per Averlo Nato Questo Qua Che Buono Secondo Ma Continua Dire Che Buono Secondo E Molto Ciò Frente Brilla Ce Lai Me Vabbè Io Sto Arche Tipo Lode Dogmatica Di Mettere I Mail Che Adesso Sono Super Roland Amo Siamo Più Che Nero Scuro A Vabbè La Capola Capriciare Sono Piare Che La Mustina Intanto E Invece Trovo Infernobol Odiger Ma Quanto Carta Per Infernobili Quanto Per La Puoi giocare Stato Troppo Voglio Vedere Voglio Vedere Il Tre Per Una Cosa Mia Che È Una Carta Molto Valide Secondo Non Brilla Questa Quindi Possiamo Andare Veloce Dormatica DD Ma Non Serve Più Sono Rotante Melty Pen Non Mettere Più Melty Che Non Sono Foil Stessa Cosa Per I Dragma Che Non Sono Foil Ah Ok Trovo Gidmer Kokami Che È Molto Forte Come Tarta È Una Bella Carta Gidmer Kokami Non Costa Molto Costa Costa In Circa 2 Euro Però Una Buona Non È Mare Poi Vabbè Lui Campanelli Nascondino Melfi Circo Lago Celeste McRis Vendificatore Lui Lo Vuoi Le Carte Fluffo Le Vedi Come Il Pano Dedicare Va Bene Io Va Direttamente Con Ricordino Riordino Tra Questa Finalmente Abbiamo Il Qua Artista Amico Samarese Per Pesante No No Ok Manno Di Tuono Fata Rosso Falce Merti Bambina E Rai Del Falco Arsenale Se lo Prende Roberto Veloce Lo Se Fa Cacare Una Carta Veramente Di Merda Sicuro Ovvio Tra Per Pertidori Però Comprano Veramente Facile Di Di Male Samarese Pesante Rivolta Signor Oscuro Megalito Full Mano Di Tuono Tre Per Grazie Ma Il Pony Non l'abbiamo Trovato Gioiosa Il Pony Non l'abbiamo Trovato Teniamoci Conto No Abbiamo Ok Tre Per Qua Ci Stanno Delle Carte Mischiate Niente Niente Questa No Questa Si Gioco Una Si Gioco Ok Gaia Gaia Quella che si esce una bella base La bella di a due centesimi Però Si esce una bella base 1 2 3 4 Brilla 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 Casa dei giochi Melfi Nazione Dogmatica Deviarca Incontro Quello Tiene L'abbiamo Trovato Pochissimo In realtà Non mi pare Roland Nexus Signor Scuro Mergal No Ragone Una magia Una magia Pensato Se triple tactical No Ero Un altro box Non troviamo Triple tactical Oh ma Sto Dragone Rivoluzione Cosa diceva Che cazzottina Mentre Triple tactical Ho capito Sto spostando Per trovare Triple tactical Davvero Io sto usando Solo Per triple tactical Manco Una In questo box Non sbrilla Viti in mare Campanellink Saga Antiquierie Artista Amico Diametro Viziata E Chiamo di volta Nemesis Questa è forte Questa la prendo io Niente Qua c'è scritto Ritento Sarei più fortunato Il Quochi Nero Se lo prendo io Dato che è l'ultima Bustina Uno Due Tre Quastro Non è l'ultima Sì Brilla Minuto Tra Lunare Se Giappone Nel combo Tra Se 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 Il Luminoso Tra Lunare Oddio Santo Che Se Stava Abbastanza Di Merda Ma Infatti Sto Fox Però Abbiamo Dio Flordelire Pullato Devo Dire Flordelire Pullato Capito Non Possiamo Campanare Su Di Flordelire Quindi Ragazzi Ricapitolando Abbiamo Basi Infinite Di Tutti Queste Abbiamo Trovato Due Flordelire Aspera Trappola C'è Già Anche Prima Lo So Due Così Un' Ecclesia Beh Diciamo Un altro Ecclesia Un Flordelire Abbiamo Fatto La Base Completa No Maximus Serre Quindi 215 Capo Anca Pogno Banniamo Clyde E Ci Vediamo Nel Prossimo Sgustaggio 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 Grazie a tutti.